Il suo nome è stato eletto infatti quest'anno dall'associazione Magic Castle di Hollywood mago dell'anno, signore e signori, lo sfrenato e pazzoide Juan Tamari. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 limpiadora del mondo del cotellini ora, mira, due mani optical illusion che cotellini è questo? blanco, bianco, bianco, bianco e rosso, sì? tre cotellini, mira qui, mira qui bianco, bianco e rosso Benito, dove le rosso? dove? me di, nel centro dove le rosso? le rosso, io demando le rosso, questione del rosso Benito, dove? dove le rosso? ai lì, sicuro? no, no, Benito muy difficile, muy difficile perché tre cotellini è molto difficile solamente due, questo non interessa solo due, e ora, mira due cotellini, due cotellini puoi vedere bianco, bianco rosso, qui only due cotellini prendo uno cotellini rosso rosso qui, qui sta che cotellini? rosso no, bianco, rosso qui no, no, no è molto importante Benito, dica la verità no, 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 no tropo cotellini tropo cotellini muchos, 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 muchos solamente uno solamente uno rosso non interessa rosso non interessa pongo qui, qui, qui se, le no, 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 il rosso il bianco è qui che cosa, no, no, imposibile imposibile repito, 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 repito mira eh, qui sta il bianco puoi vedere muy, muy, muy claramente bianco si, puoi vedere muy claramente rosso si, puoi vedere si, entonces è molto importante che vea che hai un pequeño eh, clavo nael, nael para atravesar para sujetar aquí también si, si, si atencion Benito tiene la mano de este, no la sinistra tiene, ah tiene dos perfecto perfecto me glio, me glio, me glio pongo due cotelini cierra la mano si, fermo si así muy bien due cotelini bianco è rosso no, no, no nada en la mia mano mira, 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 mira atención puede poner aquí la mano atención atención yo voy a aprender aprender, aprender, aprender por ejemplo rosso si, rosso cotelini rosso aquí bianco aquí atención muy lentamente despacio tiki, tiki, tiki tiki, tiki alguna molécula tiki, tiki, tiki algún átomo de bianco viene, viene, viene mira, mira mira, mira una molécula de bianco puede ver sí, sí, sí puede empujar un poquito un poquito con el otro dedo así una molécula de rosso increíble no, no, no solamente una parte el bianco no la parte importante solo roso tiki, tiki, tiki más bianco más bianco más, más, más más, más un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito más, mira tiki, tiki, tiki más bianco más bianco más bianco increíble más, más No, 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 solamente parte rosa En l'altro lato, sì, 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 a ver, da la volta a la mano Ferma la mano così, ferma la mano, non toque, mira, mira, tiki, tiki, tiki Ma blanco, bianco, 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 bianco Y nada, qui è tutto il cotellini bianco, sta a l'ora in questa, tu puoi vedere il altro cotellini, sì Rosso, tutto rosso, tutto cotellini rosso, perfetto, perfetto Però, però, è importante, è importante, che tiene, tiene le due cotellini, sì, tiene le due Qual è il color che ha tutti i colori, qual è il color che contiene tutti i colori, di bianco No, sì, sì, tutti i colori, sì, è vero, mira, dìgame un altro color, un altro color Che color vuoi? Perché io pongo bianco qui, dìgame un altro color io ho polvo magico il negro il polvo magico il bianco il negro è così il negro è così